Comprava vino rosso da un'azienda piacentina, lo rivendeva prontamente ad altri grossisti e spariva senza pagare il conto. Una truffa fatta a spese di un 39enne, titolare di una ditta vitivinicola di Ziano, che nel dicembre scorso si è rivolto ai carabinieri di Sarmato per sporgere denuncia contro un cliente con il quale vantava un credito di 10.000 euro. Un'impresa collocata a Settimo Milanese aveva infatti acquistato dal 39enne circa 3.000 bottiglie di vino rosso. Il titolare aveva consegnato personalmente la merce e il pagamento era avvenuto tramite due segni bancari, entrambi risultati bloccati. L'uomo si è recato nuovamente nella ditta di Settimo Milanese per riscuotere il denaro, ma l'ha trovata deserta e si è rivolto alle forze dell'ordine. I carabinieri di Sarmato hanno fatto partire le indagini e grazie ad alcuni accertamenti sui conti correnti bancari sono riusciti a risalire al responsabile della truffa. Si tratta di un 26enne di origine calabrese il quale aveva già rivenduto numerose bottiglie di vino per un valore di 4.000 euro a un grossista di Cuneo. L'uomo è stato denunciato a piede libero per truffa.